Hai mai pensato di creare un gioco interattivo con i fogli Google? Esistono online dei progetti con cui è possibile giocare, ma la cosa interessante è che permettono di consultare il codice con i quali sono stati realizzati. Anch'io ne ho creato uno per curiosità e divertimento. In questo video voglio mostrarti i principi sui quali si basano. Vediamoli! Ciao, sono Michele e in questo video voglio mostrarti un metodo per creare giochi interattivi con i fogli Google. Introduco l'argomento con un esempio trovato online. Non lo approfondirò poiché si basa su un approccio diverso da quello di cui voglio parlarti, ma è degno di nota per dare un'idea di quello che è possibile ottenere. Mi riferisco alla replica del gioco Tetris, che vale la pena di essere studiato poiché può fornire spunti interessanti dal punto di vista grafico e funzionale. Un altro esempio che ho trovato online, più centrato con l'argomento di questo video e realizzato con molte meno righe di codice, è il campo minato, il famoso gioco di Microsoft Windows, poi politicamente rinominato in Prato Fiorito. Presso dalla voglia di provarci, ho messo un tassello anch'io su questo argomento, concentrandomi sul più classico dei giochi della mia infanzia, tic-tac-toe o tris, come lo chiamavamo. Sicuramente è meno complesso nella logica rispetto agli esempi appena visti, ma ho fatto in modo da non fargli mancare niente. Ci stisci il turno dei giocatori, assegna il punteggio al vincitore evidenziando per un attimo la scella aggiornata e avviene automatico una nuova partita quando la precedente si è conclusa, anche in caso di pareggio. Gli elementi alla base di tutto sono i trigger semplici, ovvero attivatori che consentono di eseguire una funzione al verificarsi di un determinato evento. Nel caso specifico, il trigger onopen, che all'apertura del documento inizializza il gioco facendo trovare una situazione pulita, e soprattutto onedit sul quale si basa tutto il funzionamento. Poiché le celle cliccabili contengono una casella di controllo, il suo valore, passando da false a true all'interazione dell'utente, viene interpretato come una modifica. Di conseguenza, si attiva in automatico la funzione incorporata onedit alla quale viene passato un parametro. Il parametro è, che contiene il riferimento alla cella cliccata e il nuovo valore che ha assunto. A scopo informativo, questo parametro contiene anche l'informazione del valore che la cella aveva prima della modifica. Queste informazioni sono tutto ciò che è sufficiente per poter aggiornare lo stato di avanzamento di questo o di qualsiasi altro gioco. Il resto delle operazioni sono solo la logica che vogliamo applicare, che distinguerà questo gioco da un altro o un gioco da una qualsiasi applicazione per ufficio. Il principio rimane sempre lo stesso. Questo è solo un esempio in un contesto divertente di come possono essere utilizzati i trigger semplici. Approfondisco gli altri loro utilizzi, da realizzare un sistema di scadenza automatizzato per la tua azienda a ruolo che giocano all'interno delle web app, all'interno del mio libro Punta in alto con Google Apps Script, disponibile su Amazon al link che trovi in descrizione. Ti lascio inoltre il link all'articolo sul mio blog Apps Script.it, contenente il codice completo del gioco che ho realizzato e di riferimenti alle altre due risorse menzionate. In questo modo potrai giocare letteralmente con gli script. Fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto questo video e se vuoi propormi argomenti che ritieni interessanti e che vuoi aiutrarti in un tutorial. Come sempre, spero di esserti stato utile. Iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!